o frati dissi che per cento miglia perigli siete giunti all'occidente a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtude e canoscenza